Allora, siamo con Massimo Perulli, ha inventato questo bellissimo cocktail, acqua gazzosa e campari, che stiamo qui inquadrando, eccolo qua, e si chiama lo spread. Perché ha deciso di chiamarlo così? Spread perché assomiglia a spritz ed è nel termine di moda in questo periodo. Di moda purtroppo in questo periodo di crisi economica. È molto simile allo spritz, però gli ingredienti sono diversi. Quali sono? Gazzosa e campari. Perché la gazzosa e perché la campari? Perché il contrasto dolce della gazzosa con l'amaro del campari, secondo me, fa un buon risultato. Molti l'hanno definito anche un aperitivo comunista, perché è rosso. Ma ci siamo allineati un po' all'amministrazione, non scherzo ovviamente. Gli aperitivi sono quasi tutti sulla tonalità rosso-arancio, quindi siamo un po' adeguati. Ecco, tra l'altro è anche un aperitivo economico perché lo vende a un solo euro. E ha creato successo questa mattina a Portogluara? Sì, molto, ma molto. O la qualità o il prezzo, comunque vedo che ne vendiamo abbastanza.